Lo scenario SRI in Italia è molto positivo, molto favorevole, è molto simile a quello che sta accadendo nel resto d'Europa e fa piacere dirlo. L'Europa è un'area geografica leader per quanto riguarda l'integrazione e la consapevolezza di questi temi, sia dal punto di vista del business, quindi delle aziende, ma anche dal punto di vista dei singoli consumatori e degli operatori finanziari. Prova di questo è ad esempio il fatto che i fondi ISG etici di Eurizon nei primi sei mesi del 2019 hanno avuto sottoscrizioni nette del 9%, che sono molto superiori di quella dell'industria nel suo complesso. C'è da dire che Eurizon, grazie al suo impegno nel tempo che nasce nel 1996 con il primo fondo etico in Italia, è un chiaro leader di mercato con una market share del 30% all'interno di questo segmento di fondi. L'attenzione mediatica, grazie anche a eventi come il Sanol SRI, sta crescendo, questo aiuta la consapevolezza anche da parte dei consumatori. Ma c'è anche un tema generazionale, come ha ricordato Christine Lagarde, la Presidente della Banca Centrale Europea, nei prossimi 15 anni i millennials erediteranno fra 15 e 30 trilioni di dollari. L'attenzione e la consapevolezza dei millennial sui temi della sostenibilità è molto superiore alle generazioni precedenti, quindi questo determinerà una sempre maggiore domanda di questo tipo di prodotti, quindi prodotti legati alla sostenibilità, ai criteri ISG, sia dal punto di vista di prodotti e servizi tradizionali, ma anche per quanto riguarda i prodotti finanziari. I messaggi che ha voluto dare Eurizon e condividere all'interno del Salone SRI sono essenzialmente due. Il primo è sulla materialità, noi come operatori finanziari ci dobbiamo concentrare sulla materialità, la materialità è quel concetto riguardante le metriche ISG che dal nostro punto di vista, attraverso il nostro modello proprietario, vengono individuate come quelle che maggiormente impattano l'analisi finanziaria tradizionale e questo è molto importante per noi. Il secondo punto è la trasparenza. Come operatori finanziari innanzitutto apprezziamo molto il lavoro che la comunità europea ha fatto attraverso il TEG, il gruppo di esperti che si è espresso sia sulla tassonomia che anche sui Green Bond Principles. Questo aiuta la trasparenza del sistema perché in questo momento è molto importante evitare assolutamente il Green Washing. Il Green Washing in questo momento è pericolosissimo, un momento nel quale la sostenibilità si sta sviluppando in modo molto importante e l'utilizzo della sostenibilità per soli fini di marketing sarebbe gravissimo e ne minerebbe le fondamenta. Grazie a tutti.